E' stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione il 27enne Marco Bombara per abusi sessuali su una bambina di 12 anni. Il 7 agosto del 2018 a Mili Marina sulla spiaggia il 27enne ha approcciato la bimba in spiaggia. Come ricostruito dalla polizia tutto è successo alla luce del sole in pieno giorno e alla presenza di altri testimoni. Palpeggiò la bimba più volte come raccontarono i testimoni. L'uomo arrivò anche a denudarsi fino a entrare in contatto fisicamente con la 12enne. Dopo gli accertamenti esiguiti dagli uomini al comando del dirigente delle volanti Giovanni Puglionisi il GIP decretò che Bombara andasse ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata perché commessa su un minore di anni 14. Adesso arriva la sentenza decise in abbreviato dal GUP Maria Militello che ha disposto anche un risarcimento di 5.000 euro per la famiglia. Per un anno non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati da adolescenti.